A quanto arrivavano uomini come Santo Vetticcio ai recitenti, soprattutto prima di partire per una relazione eccetera, infondevano proprio quello spirito e quel coraggio semplice che abbiamo avuto di affrontare il nemico che gli sovrastava, ancora uno spirito aggressivo quindi fiducioso in se stessi e in tima che lascia veramente disarmati e ancora oggi continuano ripete, ma noi non abbiamo fatto niente di eccezionale, erano dei super uomini per me, ma non so tanto Grazie a tutti voi per essere qui stasera e a rendere omaggio a quello che è stato un bellissimo soldato e quindi anche raccordarci a tutti i soldati di oggi, a gente che come tutti noi cerca di fare il proprio meglio per mandare avanti il nostro benissimo paese, grazie mille Grazie 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 Grazie